Sicuramente positivo in voi perché ci sono delle grosse possibilità per voi se ciascuno di voi dà valore a voi che rappresenta. Questa esperienza ha dato l'opportunità di rappresentare pensieri individuali e di noto su una pagina di quotidianità, quindi spendersi, confrontarsi e questo deve essere il futuro, imparare a ragionare, a confrontare una fede con gli altri e non avere la paura del confronto dell'idea che questo ci fa crescere. Bene, allora, grazie di tutto. Lui non ci sarà l'anno prossimo perché migra e nasce. Ecco perché ho chiesto, è questo che ho chiesto, è questo che ho chiesto, è questo che non rimane a 9 euro. Beh, grazie a tutti, grazie a tutti, abbiamo parlato, avevo parlato tante cose per quanto riguarda questo momento e l'articolo di giornale, soprattutto il fatto dell'inchiesta che è un modo fondamentale per attuare in un antico giornale.